Ecco, beh, si guardi, le borgo il microfono Si, direi di iniziare subito con una produzione, sta funzionando con un game che consiste in questo Quindi alla fine di questo game il pubblico decrederà e voterà la squadra che ha preferito Allora, una alla volta, quindi prima un giocatore della squadra dei rossi e poi un giocatore della squadra dei neri Quindi vi alternate, venite al centro, riceverete un input sonoro da parte della regia E dovrete fare delle brevissime Un rottino di digestione Ecco, vi deciderà un input e poi farete una brevissima fucilata Ma proprio anche 5 secondi, 10 secondi e in maniera veloce cambio Voglio vedere questo andirivieni di giocatori È pronta la regia? Ok, c'è... Mi decredi l'inizio? Eh? Mi decredi l'inizio? Si, c'è una prassi, diremo 3, 2, 1, testo a fucilà 3, 2, 1, testo a fucilà Prima, via Più alto, più alto Mi piace così, ancora, dai, dai, oggi per far un ballettino voglio farlo porr Cambio Più alto il suono per cortesia No, 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 no No Ho dell'allergia Ci rimane secco Vi prego, risparmiatemi Cambio Subito Supito Mами Siamo arrivati a casa mia, proprio oggi a San Valentino, forse dovrei essere contenta Cambio Capitola Ah, ma non puoi chiedere. Cazzo, cazzo, ma non peccato, no, ah no, io sono qualcuno qui, cazzo, ma io adesso, cambio. La peso, lo he oído tanto. Grazie.